Quando avete cominciato a giocare, l'addio, possiamo dire? Cavolo, la fortuna va conquistata. Io penso che abbia avuto le nostre occasioni. È stata una bellissima partita, veramente, però abbiamo commesso qualche ingeluità, secondo me. Un altro livello, poi la palla, perché sono quelle tre punti che separano dalla vittoria. La fortuna non c'è, per me dovevamo e volevamo salutare delle palle in maniera diversa. Lo abbiamo fatto e proprio come sempre lo sport è giusto, perché hanno vinto loro che hanno commesso meno errori e molto importanti hanno messo oltre palle. Sono usciti davvero frascinati e affaligati. Questa è una bellissima soddisfazione. Guarda, io sono orgogliosa della mia squadra, di quello che ha adesso in campo e di quello che ho fatto nella tutta la partita. Siamo arrivati sul verbo, quindi siamo rimasti sopra, però siamo rimasti lì come una squadra. Quindi questo è importante, la metteria giusta che dobbiamo andare avanti e le partite di recuperare dopo. Via crescere, crescere, quindi dobbiamo lavorare per cercare di trasformare. Lui, per quello di cui parlavamo, in tutto questo è l'ultimo anni. Non lo sento, abbiamo avuto un sacco di occasioni, abbiamo avuto un sacco di occasioni, abbiamo avuto un sacco di veri. Ci sono due, però trasformarle è il nostro favore per cercare di vincere il possibile. Non è ancora tutto perduto? Certo, non è perduto niente, non è mai niente perduto, però di nessun obiettivo è più difficile, ovviamente. No, questo è un dato di fatto e ci dispiace perché sarebbe solo bello vincere qua a Milano contro una Polonia. Non è un completo, ma comunque la Polonia gioca veramente bene. Ci dispiace, però comunque sono orgoglioso di miei compagni. Grazie.